Buongiorno a tutti, a nome del Centro Culturale di Milano do il benvenuto prima di tutto a chi ci sta ascoltando ma poi ai nostri ospiti a questo incontro che abbiamo intitolato il pedagogista, il legislatore, le libertà, discussione aperta sul DDL ZAN, sul disegno di legge ZAN. Ne discutiamo con tre graditissimi ospiti che ringrazio di nuovo, il giornalista Fabio Pizzul, fondatore di Radio Marconi, stato presidente dell'Azione Cattolica Lombarda e anche membro della Direzione Nazionale ed è oggi presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in regione Lombardia. Buonasera, grazie. Ecco, benvenuto, davvero grazie ancora per aver accettato questo dibattito che non vuole essere infiammato ma che probabilmente qualche animo infiammerà quindi dobbiamo essere tutti disponibili a dire quello che pensiamo insieme ai nostri ospiti. Poi saluto e ringrazio per essere con noi Marina Terrani, giornalista, scrittrice, blogger, anima ben conosciuta del femminismo, non solo milanese, docente universitaria che avrà anche lei da dirci la sua posizione su questo tema. Last but not least, ringrazio e saluto Giovanni Maria Flick, presidente merito della Corte Costituzionale, ex guardasigilli, quindi ha avuto anche lui il suo ruolo importante in questa funzione pubblica di primaria importanza, docente merito di diritto penale sia alla cattolica che alla lus. Allora, siamo di fronte a un problema molto complesso. Noi siamo di fronte a un disegno di legge al Senato, quindi in seconda lettura, cioè in prima lettura ma è nella seconda Camera, già approvato sotto il governo Conte dal Parlamento. Quindi abbiamo avuto una prima fase in cui sembrava che questo disegno di legge dovesse avere un destino tutto sommato play. Poi è arrivato al Senato, cambia la maggioranza e a questo punto il problema è esploso, è esploso molto pesantemente, sta coinvolgendo l'opinione pubblica, come ha detto Ainis, da noi lo sport nazionale è giocare la destra contro la sinistra, l'Inter contro il Milan e i grandi schieramenti cattolico-laico, ognuno si schiera, magari senza aver usato la ragione, che è la maestra del diritto, e senza aver guardato a che cosa c'è scritto in questa legge, come si configura questa legge. Io dico introduttivamente una cosa molto semplice, mi sembra che ci sia un accordo tra i commentatori, che questa legge ha come due anime, una giustamente, forse giustamente, repressiva di comportamenti odiosi, l'insulto, la disperminazione, l'incitazione alla violenza, verso soggetti di minoranza, diciamo così. E però insieme a questo elemento, che tutto sommato si può anche condividere, abbiamo già fatto un esperimento simile a terra per il razzismo, con la legge Mancino, si tratta solo, secondo la visione di alcuni, di ampliare un po' le categorie da difendere. Però, d'altra parte, c'è anche un'altra anima, in particolare, proprio nella legge, a parte tutta la parte definitoria dell'articolo 1. Dall'articolo 4 e poi dall'articolo 7 in poi, si capisce che c'è un'anima, come dire, di promozione, di sostegno a certe visioni, più o meno ideologiche. E queste non hanno, ovviamente, sanzione penale, ma mettono in atto un apparato abbastanza importante di congressi, cioè esortano a parlare, a discutere, a fare incontri, a fare congressi, a fare istruzione nelle scuole, nelle università, insomma, a far conoscere delle idee. Allora, queste due anime. Prima domanda che faccio, ovviamente, a tutti e tre, ma partirei da Fabio Pizzul. È vera questa lettura della legge? È vero che ci sono due anime? È vero che c'è una parte iniziale in cui si fanno, si danno delle definizioni un po' generiche per poi usare queste definizioni un po' generiche finalizzandole a una posizione ideologica o a posizioni ideologiche che sono in parte condivise nella società italiana, ma in parte anche meno condivise. La parola a Fabio Pizzul. Sette minuti di... No, ma anche meno, non preoccupatevi. Innanzitutto grazie per questa occasione di confronto che ritengo molto interessante e importante. Allora, come tutte le leggi, quello che riportano come testo scritto poi può essere interpretato a seconda di quella che è la intenzione e l'orientamento anche di coloro che raccontano poi queste leggi. Ogni legge ha una funzione di assunzione e descrizione di quelli che sono i costumi mutati, ma anche una forte componente di indirizzo di quelli che sono poi anche le abitudini e anche le idee. Insomma, una legge, diciamo così, rappresenta un po' quelle che sono gli orientamenti culturali, ma li modella anche e fa un'operazione di carattere culturale. In questo senso, dunque, il disegno di Le Zezan è stato in questi mesi molto strattonato da una parte e dall'altra. Io credo che abbia una funzione importante, che è quella di mettere a tema una necessità, cioè quella di arrivare a una condivisione sulla necessità di bandire qualsiasi forma di intolleranza, più o meno evidente, più o meno strisciante, anche nei confronti di alcune realtà che dal punto di vista legislativo non erano mai state citate prima e che sono emerse nella sensibilità e nella pubblica opinione, in particolare nell'ultimo periodo. Il messaggio, quindi, secondo me deve essere quello di no a qualsiasi intolleranza, discriminazione e azione violenta nei confronti di chi che sia. Questo da un lato. Dall'altro lato, poi, il testo di legge, come correttamente si diceva, ha alcune parti che io ritengo particolarmente delicate da maneggiare con cura. Io sono all'interno di un partito come il Partito Democratico, che viene a proporsi come estrenuo difensore, diciamo così, del disegno di legge. Credo però che sia necessario che questo disegno di legge sia sottoposto a una discussione all'interno dell'Assemblea legislativa del Senato. Sono tra coloro che sostengono, ad esempio, come correttamente si diceva, che nell'articolo 1 ci vuole una maggiore prudenza nell'andare a definire in maniera molto schematica e rigida con delle definizioni che vanno a introdurre per legge delle modifiche anche rispetto a quella che è una sensibilità e a quelle che sono anche delle acquisizioni dal punto di vista sociale, scientifico e regolatorio. Quindi su quello io qualche dubbio lo nutro. Ho meno preoccupazioni riguardo l'articolo 4 che si citava, cioè quello della libertà di espressione, perché credo che per come è formulato, anche se si può sempre migliorare, ci mancherebbe, garantisce una possibilità, non solo una possibilità, ma la necessità che ciascuno possa esprimere quelle che sono le sue posizioni, le sue idee. Sono un po' perplesso anche io riguardo l'articolo 7 che introduce in una legge che deve, secondo me, avere come nucleo fondamentale quello della non discriminazione e della lotta a qualsiasi tipo di intolleranza e violenza, anche una dimensione propositiva e proattiva e quasi, scusate il termine un po' inesatto, sono al cospetto di due giuristi, quindi non vorrei, quasi pedagogica. Ecco, questa funzione pedagogica anche, che è inserita all'interno dell'articolo 7 e i limitrofi e che chiama in causa obbligatoriamente anche le scuole e altre realtà educative, io credo che utilmente potrebbe essere più sfumata. Il tema però qual è? Vado verso la conclusione. È quello di uscire dalle contrapposizioni dure, cioè in questo momento in Parlamento, dal punto di vista di come viene raccontato lo scontro sulla legge Zan, il tema è affossare la legge Zan piuttosto che portarla avanti così com'è perché è l'ultima occasione possibile per affrontare questi temi, altrimenti non ce la faremo più. Ecco, io credo che queste due posizioni estremizzate non facciano assolutamente il bene di coloro che credo nella maggioranza degli italiani vogliano che si pongano delle condizioni perché si operi contro ogni intolleranza e contro ogni violenza. Io credo quindi che vada portata la discussione, questo disegno di legge all'interno del Senato, ma che ci siano tutte le possibilità per apportare in un'ottica di dialogo, di confronto e di approfondimento le modifiche necessarie che possano stemperare un po' le polemiche e possano evitare di trattare determinati temi come, lo si diceva prima, un derby calcistico piuttosto che un confronto tra contrade per andare a usare la metafora senese, per così dire. Per cui io anche all'interno del partito nelle cui file sono eletto ho tentato con altri di stimolare un passo indietro rispetto al muro contro muro e al totale rifiuto di un confronto e di una discussione per arrivare a migliorare un testo che secondo me può portare a una legge che può essere utile nella misura in cui però non sia una prova di forza degli uni contro gli altri. Bene, grazie. Sembra una posizione molto stimabile, molto ragionevole. Proseguiamo in questa forma di ascolto, di ascolto vicendevole e proviamo a vedere cosa ci dice su questo tema Marina Terragni. A te la parola Marina. Sì, io vorrei dire che a Pizzul che so che c'è dentro il Partito Democratico molto scontento su questo testo e come dire la consapevolezza di essersi messa in una trappola da cui in questo non si trova l'uscita per ragioni che non riguardano i contenuti della legge o come la formulazione del testo ma che riguardano appunto la contesa politica con la lega, con il centrodestra solo che dato che qui la contesa non è sull'etichetta del Valpolicella ma su una cosa che mi sembra si tenda nella sua portata di rivoluzione antropologica a non considerare perché questa partita è andata già molto avanti. Allora, io non mi addentro in questioni giuridiche perché abbiamo una maestra che ci coordina e un maestro che poi interviene al posto. Ecco, l'unica cosa che posso dire su questo tema è che un indeterminato e non tassativo come un percepito, l'identità di genere all'interno di una legge penale forse crea ai cittadini qualche problema perché io devo sapere con l'oggetto del reato se sto commettendo reato e sull'intento pedagogico sul volo perché lo ha rivendicato lo stesso Zanna che ha rifiutato voglio far notare qualsiasi richiesta di confronto pacifico così Cirinna, così il segretario Letta quindi devo dire che l'auspicio di, condivido totalmente l'auspicio di Pizzu però anche dal segretario Letta ci siamo sentiti ribadire, prendo conto se lo dice Cirinna, ma se lo dice Letta, questo è il testo, questo deve passare, io spero che invece non in scena ma ci sia un luogo in cui il Partito Democratico discuta su come fare a trovare la mediana su una legge che viene presentata in modo così tassativo. Allora intanto vi dico quali sono le obiezioni che il femminismo avrebbe voluto portare a Zanna ma fin dalla Camera però la sordità è stata assoluta e continua a esserci. Allora intanto abbiamo detto che allargare alle donne, quindi la misoginia, includere le donne tra le minoranze da tutelare non funziona, non funziona perché sono casualmente la maggioranza dei cittadini italiani. Secondo, nessuna ha mai pensato di risolvere le questioni del dominio di un sesso sull'altro con tutto ciò che ne consegue con una legge penale. Magari abbiamo sbagliato ma ci si consenta di avere la parola almeno su questo. Invece questa è stata una idea geniale di Boldrini che ha messo la misoginia perché si cominciava a sentire rumoreggiare una critica di donne a questo testo di legge e così è arrivata questa foglia di fico. Sbagliatissima. Seconda cosa, poi arriva la terza, quella centrale, seconda cosa questa faccenda delle scuole. A me pare che non ci si renda conto che dentro le scuole la formazione LGBT è già molto avanzata, non parla di amore omosessuale, parla di identità di genere, di carriera alias, di utero in affitto. C'è un tour in corso, per esempio, pubblico di questi due papà per scelta, si chiamano, nelle scuole italiane, vanno a raccontare la cosiddetta surrogazione di maternità. identità alias vuol dire che un ragazzo viene insegnato, coerentemente a quello che si fa in tutto il mondo occidentale, viene insegnato a un ragazzo come rivendicare di essere chiamato con il nome suo ed elezione, diverso da quello anagrafico, anche dando degli strumenti giuridici. Per esempio in Canada si insegna ai bambini, attraverso l'unicorno JG, come fare quasi causa ai genitori che si oppongano alla transizione. Ecco, quindi io speravo che almeno per i figli minori nelle scuole fosse possibile per i genitori esprimere il loro consenso. Io per esempio sono una che manderebbe il proprio figlio a questi corsi perché io poi gli parlo. Ci sono situazioni in cui invece le persone preferiscono fare altre scelte, mi sembra un minimo principio di libertà. E questo è stato negato, c'è stato un emendamento, vari emendamenti al Senato su questo tema, e il Partito Democratico ha votato compattamente contro questo minimo principio di libertà. Quindi io, Fabio, sono molto arrabbiata con il Partito Democratico, te lo dico con grande sincerità. Il tema però, il core della legge, il corbisme di questa legge è l'identità di genere. Allora, nessuno sa, perché i giornali non lo scrivono, mica perché è, che ieri in Spagna è stata respinta, bloccata quantomeno, la cosiddetta lei trans, bloccata con l'assenzione del PSOE, che a differenza del confratello PD, è contro il concetto di identità di genere. Perché il concetto di identità di genere significa fare un passo avanti verso l'autodeterminazione di genere, cioè autodichiarazione con un semplice passaggio all'anagrafo, un atto notarile, è già realtà. Per esempio, il Canada è il paradiso di questa cosa, mentre l'Inghilterra l'ha rispinta. Il dibattito è in corso in tutta Europa, mentre parliamo ne sta parlando il Bundestag. Quindi, ieri invece, ho detto, la lei trans è stata bloccata, almeno temporaneamente, in Spagna. Allora, poi magari entrerò più nel merito per non prendere troppo tempo di che cos'è questa identità di genere. Sta di fatto che quel concetto che è centrale, che è l'architrave della legge Zahn, del DDL Zahn, è già una realtà in molti paesi, è la porta di ingresso all'autodeterminazione di genere. Esiste già una piattaforma per una proposta di legge sull'autodeterminazione di genere, presentata dal MIT. Io l'ho letta, e quindi mi sembra strano che i parlamentari non abbiano trovato il tempo di leggere questa proposta di legge, dove si parla appunto di libera scelta del genere con un atto solenne, che non si capisce cosa sia. Vado all'anagrafe, faccio un atto solenne, stapolo champagne, e dico che da domani mattina sono un uomo. Non parliamo dell'ormonizzazione ai bambini, perché ci sono i bambini che vengono ormonizzati in tutta Europa, compresa l'Italia. La cosa è stata fermata poche settimane fa dalla Svezia, è stata fermata dalla Finlandia, è stata fermata dall'Inghilterra, che oggi chiede una sentenza del Tribunale. Mentre molti probabilmente non lo sanno, ma in Italia si può fare con un semplice parere medico da almeno un paio d'anni. Quindi vedete che le questioni sono veramente la nostra carne, sono la radice dell'umano, sono la sessuazione umana, non la sessualità, la sessuazione umana, ragione per la quale dovremo avere molto tempo per discutere, moltissimo così che è stato discusso, così come è stato dibattuto a lungo il divorzio, è dibattuto a lungo l'aborto, è dibattuto a lungo la fecondazione assistiva, assistita a questa questione, è molto di più, molto più sensibile, è stata fatta passare, io inclandestinità alla Camera, con la distrazione di tutti, perché Fabio ti ricordi, eravamo all'inizio della seconda ondata, secondo le direttive date, dicevo prima di andare in diretta, le direttive cosiddette Dentons, le direttive di Stonewall, che è la più grande, che sono no debate, non si discute, le cose si fanno passare nel silenzio, i media non ne devono parlare, è andata bene alla Camera, la bomba esplosa, adesso al Senato bisognerà trovare quantomeno una mediazione, però se finisco, se il segretario Letta ci dice che il testo è quello, non si cambia, è perfetto, è meraviglioso, non possiamo che arrenderci, io ho chiesto di essere audita, l'ho chiesto a Mirabelli, al Partito Democratico, non ho avuto nemmeno risposta, in compenso so che mi vuole audire la Lega, per una donna come me, che ha tutta la sua storia politica, a sinistra devo dire, è veramente sconvolgente, cioè l'altro sera sentivo il professor Ricolfi, e chiudo con questo, dire in trasmissione dove eravamo a Rete4, che è veramente sconvolgente per una persona di sinistra come lui, dover convenire sul fatto che oggi le libertà sono difese dalla destra, mentre dalla sinistra è censura, bavaglio, silenzio, e in posizione di cose che, no è così, guarda io l'ho subita in un modo, noi tutte l'abbiamo subita, c'è gente che si è dimessa dal Partito Democratico, se n'è andata a mollare, per questa esperienza terribile che abbiamo avuto. Adesso ascolto il professor Fri, che poi dirò altre cose. No, grazie Marina Terragni, però appunto, diciamo, il dibattito è sicuramente dentro il PD, ma è un dibattito che sta evidentemente coinvolgendo tutti, tutti coloro che si stanno interessando a questo tema, quindi noi vorremmo veramente anche capire un po' di più, e in questo sono certa che Giovanni Maria Fic ci aiuterà, quali sono anche i problemi giuridici, nel senso più tecnico del termine, ma anche nel senso più antropologico del termine, perché non c'è diritto senza antropologia, non c'è diritto senza valori fondanti, e quindi ogni legge ha il suo taglio, ha la sua proposta, sul rettizia o meno, in questo senso mi sembra che anche voi l'abbiate messo in luce, pur con accenti diversi, ma ecco questa legge che al penalista e al cittadino cosa dice, cosa suggerisce, che valutazioni, che pensieri suscita, perché poi alla fine è un pensiero che ci interessa, è uno sguardo attento a come la realtà sociale, anche tramite la legge, si può evolvere. Alla parola al nostro Presidente. Grazie, ma io mi riconosco più nella posizione di Marina Terragni e non nella posizione di Pizzullo. Capisco che si debba trovare un accordo, una mediazione, tutto, ma c'è un limite di logica prima degli altri tipi di limiti. Allora vorrei non entrare assolutamente nel merito, anche perché non ne ho la competenza. Vorrei fare due osservazioni molto semplici. La prima è che questa legge è necessaria nella misura in cui paga una cambiale verso la Costituzione. La Costituzione pone come ostacoli alla pari dignità che vanno rimossi una serie di parametri, il primo dei quali è il sesso. sesso, poi dunque razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Detto questo, che imporrebbe un obbligo di adeguamento all'articolo 2, all'articolo 3 della Costituzione, non lo si è mai fatto. Non lo si è mai fatto perché la legge Mancino nella sua trasformazione progressiva è diventata una specie di contenitore che può contenere di tutto, ha ripreso una Convenzione delle Nazioni Unite nella quale manca il sesso e nella quale gli unici elementi che vengono in considerazione come parametri di una discriminazione da rifiutare e occorrendo di punire sono i motivi razziali, i motivi etnici, i motivi nazionali e i motivi religiosi, non quelli sessuali. Allora, questa cambiale, questo ritardo che molti di noi hanno sottolineato da parecchio tempo, ma la voce dei giudizi conta molto poco, va riempita e va pagata. Detto questo, e io mi fermo perché non voglio entrare nelle ulteriori valutazioni, poi c'è una valutazione sempre di carattere giuridico da fare sull'articolo 4, qui mi pare di capire che il legislatore ha riempito la cambiale attraverso una illogica manovra, scusate se lo dico, nella quale prima ha dimagrito, ha introdotto il sesso, sì, adesso, nell'ambito della Mancino, che è la legge che attua la Convenzione delle Nazioni Unite, ma lo ha dimagrito riportandola a una concezione ormai tramontata, inaccettabile, cioè sesso biologico e sesso anagrafico. Già l'accortamento fa capire che il sesso biologico è qualche cosa, vediamolo ma con calma, non è poi così importante. Lasciamo perdere questo discorso. Il discorso è che si dimagrisce il concetto di sesso, riducendolo al sesso biologico, al sesso anagrafico, e poi lo si rinforza, lo si riaggiunge attraverso una serie di altre indicazioni, genere, attrazione, pensate che le prendo perché vanno un minimo sottolineate rapidamente, sono dunque, 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 l'attrazione, dunque il primo, e la manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o eccetera alle aspettative, e cioè il genere, come interpretato da questa definizione. Secondo, orientamento sessuale come attrazione sessuale o affettiva verso una persona qualunque sia il suo sesso e il suo genere. Terzo, per identità di genere si intende l'identificazione percepita dal soggetto, cioè si introducono nell'ambito della definizione di ciò che è protetto sotto sanzione penale tra i concetti di difficile comprensione il che è contrario a qualsiasi precauzione o norma o indicazione di istruzione elementare per costruire una legge penale. Perché la legge in generale, ma la legge penale soprattutto, deve essere tassativa e certa, cioè deve porre dei limiti all'interpretazione del giudice, deve consentire una ragionevole prevedibilità dei risultati che vengono fuori nella sua inosservanza. Ma se io non sono in grado di capire che cosa la legge mi prescrive, io vorrei che facessimo non un referendum, un sondaggio su quanto l'opinione pubblica capisce questa terminologia e questa serie di indicazioni. Perché mi si dice ma questa è una mera indicazione. E no, non è una mera indicazione che serve di linea guida e che è alla base di un'educazione. Tutto al contrario. È una definizione di quella che è la condotta vietata per la tutela del bene sesso. Posso fare un paragone semplicissimo e semplicistico. Quando il legislatore si è posto il problema della religione, si è posto un problema religione to cure. Non è andato a esaminare, sì, ma guardate che la religione è anche non solo il professare una religione, ma anche il professare dell'ateismo. Cioè una serie di dettagli, sviluppi, implicazioni di tipo scientifico che a mio avviso hanno poco a che vedere con una prescrizione di legge la quale potrebbe forse riassumersi con un termine più preciso, più semplice, più comprensibile il sesso in tutte le sue forme, manifestazioni ed espressioni da parte del soggetto. Cioè ciò che la legge si propone di evitare è la discriminazione per ragioni di sesso. Sia il sesso come lo intendo io, sia il sesso come lo intende l'altro, sia il sesso come lo intende una terza persona. Qualsiasi forma di espressione o di manifestazione attenente alla sfera della sessualità che a mio avviso meno lo Stato va a sfrucugliare con le sue affermazioni che sono di solito sempre estremamente imprecise ed estremamente incapaci, e meglio è. Questo è il ragionamento del giurista al quale si accompagna può essere sbagli per carità la constatazione che nel nostro paese stiamo esagerando nell'utilizzo del panpenalismo. Tutto finisce almeno in apparenza nel penale. Abbiamo addirittura usato il penale per limitare i contatti durante la pandemia, tranne che per alcune categorie di soggetti per i quali i contatti e la convivenza coatta erano obbligatori. Mi riferisco ai detenuti ma questo è un altro discorso. Dopodiché siamo andati avanti nell'ambito della prevenzione della pandemia con una serie di comportamenti che erano totalmente al di fuori della legge perché erano disciplinati dai DPCM. Noi tecnici sappiamo cosa vuol dire questo. Atto del governo non legge. È vero il Parlamento non è in grado di funzionare il Parlamento è delegittimato ma qui abbiamo dato un colpo di piccone notevolissimo alla gerarchia non alla gerarchia alla sistemazione delle regole e questo mi pare molto pericoloso. E questa è la ragione per la quale io sono estremamente perplesso sulla strada scelta dal legislatore in un primo momento in una prima fase di svuotare il sesso del suo significato così come esso è vissuto adesso. In secondo momento riempire questo significato perché non basta evidentemente fermarsi al sesso biologico e tantomeno al sesso anagrafico riempirlo con una serie di concetti valutazioni teorizzazioni estremamente importanti estremamente da approfondire da discutere da studiare ma che sono l'esatto contrario di quella che è la tassatività e la precettività che dovrebbe regolare la normativa penale. Non lamentiamoci poi se il giudice con questa prateria sterminata di interpretazioni che gli si presenta davanti deciderà come gli pare non sentendosi vincolato da una legge che non è più tale. ecco questa è la mia valutazione che mi riservo poi di approfondire su un altro piano con riferimento all'articolo 4 dove io ci vedo qui all'articolo 1 ci vedo una prospettiva molto arrischiata di scelta nell'articolo 4 ci vedo un qualche cosa di diverso che se avrò tempo illustrerò dopo e che mi pare molto pericoloso lì sì mi sembra un errore giuridico da matita rossa e matita blu insieme rimane il problema della difficoltà di costruire una norma penale che di penale non ha più nulla se non la sanzione che poi non verrà mai applicata evidentemente e questo mi fa pensare che gli ultimatum le polemiche dell'una e dell'altra parte io non voglio entrare assolutamente in queste polemiche sono in realtà legati a contraposizioni di tipo politico per salvare una maggioranza precaria si è disposti a qualsiasi cosa guardate che è un tema che è già venuto fuori a proposito della giustizia è un tema che è venuto fuori anche a proposito delle modifiche costituzionali se ricordate come si è arrivati alla diminuzione del numero dei parlamentari con una modifica costituzionale credo che dovremmo sbattere la testa nel muro e io questo non lo condivido e non mi sento né di condividerlo né di perdonarlo lo subisco ma tanto io ormai vorrei continuare a vivere una depressione come quella e desolazione come quella che sto vivendo di fronte al massacro di certi concetti giuridici che sono fondamentali per la convivenza non sono patrimonio di vecchi parrucconi sono elementi fondamentali per la convivenza spero di aver chiarito il mio concetto oh sì benissimo grazie grazie a Giovanni Maria Flick e quindi siamo in un bel punto da da mettere a fuoco no io pertanto adesso la seconda domanda la volevo fare sulla libertà d'opinione perché nonostante tutto credo che ci sia un timore molto forte sulla demonizzazione che potrebbe venire da questa legge rispetto a visioni più o meno tradizionali della differenza della differenza sessuale quindi a cascata sull'identità sulla famiglia sull'educazione e via discorrendo credo che ci siano delle preoccupazioni molto forti non so non sono certa che questa legge diciamo così sia una possa portare alla repressione di mere opinioni questo direi che nonostante l'incertezza e la indeterminatezza che emerge così come ci è stata detta da Flick non penso che nessun giudice mai potrà condannare queste nonostante l'articolo 4 anche grazie all'articolo 4 delle opinioni che sappiamo essere molto diffuse nella società al di là della destra e della sinistra che come vediamo non hanno poi in certi campi nessun peso però il tema della libertà d'opinione io vorrei porlo lo stesso perché qui non stiamo parlando solo di libertà individuale la libertà d'opinione è il pilastro della democrazia allora se noi vogliamo fare un'educazione in un certo senso se vogliamo fare degli insegnamenti in un certo senso e se quindi in questo modo si come dire surrettiziamente come ha scritto Ainis recentemente vogliamo arrivare a delle a portare avanti solo determinati valori che sono valori di privacy di libertà che sono da condividere ecco io questo a questo un po' mi preoccupa e vorrei vorrei che venisse approfondito però per parità di armi siccome Fabio Pizzul è stato molto molto parco nel suo intervento vorrei riprendere il giro dei nostri ospiti ripartendo da lui e a questo e a Fabio do la parola sì grazie allora riflessioni serissime molto interessante quello che ho sentito sulla libertà di opinione guardate l'articolo 4 quello incriminato un po' per una sorta di escusazione non petita chiamiamola così che non dovrebbe essere in realtà parte di alcuna legge se la legge fosse sufficientemente chiara introduce appunto no però noi non vogliamo limitare assolutamente né questo né quello eccetera eccetera poi sono molto interessato ad ascoltare dopo cosa il professor Flick sottolineerà riguardo il rischio che sottende appunto questo articolo credo anch'io come diceva poco fa Lorenza Violini che dietro questa legge non ci sia alla fine un fondato rischio liberticida però già il fatto che noi nei confronti su questa legge abbiamo visto degli atteggiamenti molto al di sopra delle righe all'interno dei diversi schieramenti indica come su questi temi bisogna andare molto molto cauti al punto che dico che dovrebbe essere il legislatore appunto il Parlamento il Senato in questo in questo caso e in eventuale seconda lettura alla Camera ad essere esemplare nella capacità di affrontare questi temi con una capacità di andare oltre il livello di semplificazione e di scontro che in realtà i media ci sbattono addosso quotidianamente se invece anche il legislatore si adegua a formule definitorie generiche a una volontà di imporre un determinato tipo di articolato perché è più comunicabile o è più gradito a una parte piuttosto che all'altra beh allora secondo me il legislatore in questo viene meno a quella che è la sua funzione fondamentale e che fa riferimento alla Costituzione come diceva il professor Flick come faro da cui non si può assolutamente prescindere e il tema poi della libertà di opinione guardate è un tema molto sensibile ma non solo attraverso una norma che potrebbe essere liberticida qualcuno dice ma soprattutto per quanto riguarda la capacità di confronto che ormai c'è all'interno della società e anche dei partiti stessi io capisco Marina Terragni quando dice di essere molto turbata anche dalle modalità con cui è stata diciamo pure aggredita talvolta anche per le posizioni che ha preso su questi ma anche talvolta su altri temi perché ormai si è persa totalmente anche all'interno dei partiti la capacità di confrontarsi sulle idee ci sono delle posizioni preconcette sulle quali si modellano le idee conformandole a quella che è la convenienza del momento lasciando perdere qualsiasi capacità di confronto reale su delle dimensioni più ampie e devo dirvi che anche le posizioni come la mia all'interno del partito democratico non sono molto tollerate al punto che ogni tanto viene quasi da dire a mo' di battuta che invoco una sorta di legge per garantire la libertà di espressione all'interno dei partiti una delle grandi incompiute della costituzione ad esempio è l'articolo 49 che riguarda la democrazia interna ai partiti e guardate nonostante tutto e lo sottolineo in questo momento io credo che il partito democratico sia uno dei pochi partiti che tenta di conformarsi un po' a quella legge a quell'articolo 49 della costituzione poi che sui social si scateni il mondo e che i social siano il luogo peggiore secondo me per trattare di queste tematiche e di banalizzazione di queste tematiche io di questo sono profondamente convinto ma è un imbarbarimento che purtroppo ha a che fare con uno scivolamento anche culturale della nostra società che dobbiamo invece tentare di riportare a una capacità di confronto sui grandi ideali e sulle idee appunto aggiungo un'altra cosa credo che poi ci sia anche uno scivolamento della sinistra in questo momento sul tema dei diritti individuali io credo che i diritti in quanto tali o sono diritti relazionali e diventano anche diritti poi sociali o se vengono individualizzati non sono parte secondo me della storia della sinistra ma sono più parti di una storia libertaria che ha poco a che fare con una tradizione sociale e relazionale che è tipica della sinistra questa è una mia posizione che credo sia molto condivisa anche all'interno del parito democratico ma che oggi fa fatica ad emergere oggettivamente come fa fatica ad emergere anche in altre realtà perché purtroppo noi siamo imbevuti di una cultura individualistica che ha avuto spazi enormi all'interno degli ultimi due decenni e che sta influenzando in maniera fortissima anche le scelte politiche della maggior parte dei partiti oggi attuali leggevo oggi in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della morte di Pannella ad esempio il fatto che e non è un'analisi lontana dalla realtà secondo me che il vero vincitore in questo momento anche all'interno del dibattito culturale della sinistra è un po' il partito radicale con le idee di Pannella che però fondamentalmente io non credo siano del tutto ascrivibili a una tradizione di sinistra che ha molte anime diverse rispetto al radicalismo e a quelle posizioni ho un po' divagato ma per dire che cosa e chiudo che dal mio punto di vista è necessario un riconoscimento reciproco della legittimità di posizioni diverse sulle quali si può trovare una sintesi ma se c'è una incapacità di riconoscere la diversità come ricchezza il rischio è che una legge che secondo me può essere utile e importante come il disegno di legge Zan diventi un paravento per giustificare l'intolleranza verso posizioni diverse dalla propria e sarebbe un'eterogenese dei fini che francamente sarebbe quasi paradossale io credo dunque che bisogna tornare a una capacità di riconoscere il diverso come titolare della stessa dignità di poter esprimere l'opinione rispetto alla mia o a quelle che si credono essere dominanti e in questo bisogna fare davvero molta molta strada perché abbiamo paura delle idee in questo momento e del confronto franco sulle stesse grazie grazie anche a te Fabio grazie ancora solo una piccolissima nota ma per esempio lavorare un po' di più sulle audizioni in Parlamento visto che Marina stessa ha parlato disponibile a discutere e poi invece non è stato risposto a fare un lavoro un pochino più spazio in modo che anche il Parlamento no il problema il problema che in Parlamento c'è un clima tale per cui si è passati come dicevo all'inizio da un dire no pasarán da parte di chi diceva che l'unico obiettivo era quello di affossare il disegno di legge Zann e altri che hanno la preoccupazione di farsi quindi che non ci sia la minima apertura perché dietro quell'apertura poi c'è il sospetto che non ci sia la vera volontà di confrontarsi ma un affossamento delle stesse e io credo che la posizione ad esempio espressa un paio di giorni fa dal presidente della CEI il cardinal Bassetti in questo senso sia molto molto equilibrata qualcuno si è lamentato qualcuno nel familiare si è lamentato dicendo no non può essere così morbido deve essere più duro la CEI non può essere così remissiva in realtà non è essere remissivi è essere realistici ed essere capaci di riconoscere le posizioni altrui e l'importanza di un confronto sulle idee le grandi assenti in questo momento e certamente però dare in mano un Parlamento di questo tipo proprio una legge come questa qualche problemino no lo dico proprio tecnicamente ecco non voglio non voglio fomentare fomentare però il Parlamento è quello che hanno scelto gli elettori italiani e su questo non possiamo sì questo è vero vabbè comunque ci abbiamo provato tutti scusa vorrei ancora tocca sicuramente a te ma volevo chiedere proprio un intervento breve se andiamo conto che vogliamo chiudere per le sette e mezza otto meno venti perché il diritto al cibo e alla cena e alla famiglia è sempre dominante su tutto e volevo chiedere però l'osservazione a Giovanni Maria Ficca al presidente Ficca se ci fa l'osservazione sull'articolo 4 visto che è stato citato da Fabio Pizzul poi sulla libertà d'opinione scalino la nostra premessa premessa questa volta sono d'accordo con Pizzul mi fa piacere sono d'accordo nel senso che c'è stata un'enfasi dall'una e dall'altra parte che fa paura mi sembrava di risentire quel vescovo che nell'assedio agli abigesi di una città della Francia disse uccideteli tutti Dio riconoscerà i suoi una certa intolleranza a sinistra a sinistra non nemmeno no non posso nemmeno definire la sinistra dall'una e dall'altra parte sta diventando insopportabile in un paese che sta dimenticando i fondamenti della Costituzione compreso quello che il sesso è nella Costituzione un elemento fondamentale il primo di discriminazione e che stiamo semplicemente cercando di colmare questo problema il secondo discorso Pizzul parlava di una sopravvalutazione della dimensione individualistica dei diritti hai ragione ma perché ignoriamo l'articolo 2 della Costituzione ai diritti inviolabili si agganciano strettamente i doveri di solidarietà politica economica e sociale l'articolo 2 della Costituzione ed è evidente che a questo punto è meglio parlare di diritti che non anche di doveri perché se parli di doveri apri la via tutta una serie di doveri che la gente non si pone quando vuole affermare i propri diritti quindi purtroppo è un'educazione che dovremmo fare ritornando a insegnare la Costituzione a far capire che i valori fondanti sono questi terzo discorso quello che mi preoccupa di più è che quell'articolo 4 che io ritengo vada assegnato con la matita rossa e con la matita blu a differenza dell'articolo 1 che forse è un infortunio di percorso di definizione mi pare estremamente pericoloso perché affida alla legge ordinaria quello che è già previsto dalla Costituzione ma vi pare che io devo riconoscere il mio diritto alla libertà di manifestazione del pensiero purché sia condotta legittima e chi lo decide se è legittima al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte purché non idone contraddizione o superfettazione a determinare il concreto pericolo di compimento di altri discriminatori ma insomma sono 50 anni che la Corte Costituzionale interpreta l'articolo 21 e la giurisprudenza anche dicendo queste cose a me non piace per nulla e mi preoccupa molto che questo legislatore e male senta il bisogno di ribadire come previsto da una legge ordinaria un concetto che è presente che è consolidato nella Costituzione nella sua interpretazione perché questo vuol dire che se un domani un legislatore diverso dall'attuale mi auguro ritiene di dover modificare e limitare il diritto di liberamente manifestare il pensiero lo potrà fare con le maggioranze che servono a cambiare le leggi e non con le maggioranze e con il metodo che serve a cambiare la Costituzione direi che questo è prima di tutto una specie di offesa di mancanza di riguardo abbastanza pesante e abbastanza pericolosa nei confronti della Costituzione la quale all'articolo 21 ha già detto queste cose nel 1947 e le ha consolidate con quell'interpretazione che è costante in questo senso poi che ci siano delle interpretazioni sbagliate è un altro discorso ma io credo che questa norma oltre a segnalare se potessi usare un'espressione non parlamentare direi una certa coda di paglia e quindi il tentativo di placare col 4 le preoccupazioni che può sollecitare l'uno che sono due cose completamente diverse ecco io credo che con questo sistema si svuota una volta di più la Costituzione e se qualcuno continua a dire che tutto va bene madama la Marchesa perché almeno teniamo in piedi una maggioranza precaria l'insulto acquista o la mancanza di riguardo acquista un doppio significato ma questo è inutile che torni a parlare perché credo di averlo già accennato prima grazie grazie infinite anche per la precisione e la concisione del nostro dialogo che ha un ottimo effetto anche sui nostri auditori no solo un'osservazione certo la CEI è stata prudente ma non ambigua cioè ha detto che questo BDL qualche problema lo pone sia per quello che fa sia per quello che non fa sia per quello che sostiene poi bisognerà cercare di metterci mano di uscire dall'impasso su questo credo che ci sia una disponibilità generale però però che questo questo disegno ha in sé credo una sorta di intrinseca inutilità diciamo perché cosa fa in un certo senso ribadisce mischiandolo con una serie di altri temi qualcosa che nel codice penale c'è lo diceva anche Fianganca oggi sulla oggi sulla stampa però io tornerei alla libertà d'opinione perché è questa che piaccia non piaccia tutto l'intervento introduttivo di Marina Terragni lo avevo alzato un po' la palla su questo tema che non si forzi su un pensiero unico che non so a me colpisce perché ho un nervo un po' scoperto che si facciano dieci definizioni della questione del sesso e sulla disabilità che è una delle situazioni più diversificate di si lascia proprio uno spazio molto minimale e oltretutto anche poi nel resto della legge non se ne parla più si resta sempre sulla fobia eccetera eccetera che non c'è insomma diciamo anch'io vedo dei problemi in questa direzione e non posso non ricordare che si dice quello che si dice negli Stati Uniti è cioè che il remedy to be applied is more speech not enforced silence grande giudice Brandeis che permetteva ai neonazisti di andare a manifestare a scocchi una libertà d'opinione molto estrema che noi non abbiamo perché noi abbiamo l'idea di una democrazia protetta che alcuni valori debbano essere protetti anche col sistema penale però alcuni valori alcuni chiari semplici molto condivisi valori ecco scusate mi sono un po' dilungata e chiedo scusa ma volevo appunto ritornare su questo tema perché è veramente un tema base per la democrazia se noi non consentiamo un dialogo a fondo su quali sono i valori portanti di ciascuno di noi e dei nostri gruppi di appartenenza noi bruciamo veramente le radici della democrazia Marina te la parola mi scuso per questa lunga interventura no ma figurati ti ho ascoltato volentieri allora la questione è questa se il primo firmatario di questo DDL quindi che dovrebbe avere tutto l'interesse era essere rassicurante circa la libertà di opinione dichiara che la legge serve a instillare un atteggiamento di prudenza e mi sembra Mao Tse Tung che diceva colpirne uno per educarne cento se un'altra importante firmataria la senatrice Maiorino del Movimento 5 Stelle dice parlare contro i due padri sarà considerato crimine d'odio quando i due padri a meno che non si tratti i padri ma generalmente ricorrono a maternità surrogata che è un reato questo significa che io non potrò più dire quello che dice la Corte Costituzionale in una bellissima sentenza di Giuliano Amato che dice che la surrogata viola la dignità della donna e pregiudica gravemente le relazioni umane cioè è un abominio se io dico questo secondo la senatrice Maiorino che dovrebbe appunto essere prudenziale nell'esternare queste cose figuriamoci quando la clava sarà consegnata a diciamo quelli che ne vorranno fare uso perché è vero quello che è stato detto l'articolo 4 che fa diciamo fa parte dell'ombrovio giuridico che è questo testo è come è proprio ha ragione il professor Flick è una coda di paglia ma una coda di paglia rispetto a una realtà di censura del pensiero che è già reale che non è un domani non potrò già oggi non posso io per aver riportato un virgolettato tra l'altro senza insulti educatamente che corrispondeva al vero sono stata querelata dall'avvocato Schuster di Rete Lenfor di Famiglia Arcobaleno naturalmente non c'era reato è stato archiviato ma questo comunque io sono stata in qualche modo tirata in mezzo ho dovuto pagarmi un avvocato sono stati tre anni di rotture di scatole io che sto insegnando all'università ho dovuto resistere perché 15 giorni prima prima di iniziare l'insegnamento e lo racconterò quando l'avrò finito scriverò al ministro dell'università mi volevano levare l'incarico perché sono gender critical anche se io parlo di filosofia etica della comunicazione che non c'entro un tubo ma per dire nelle università Fabio tu leggiti su Micromega 300 ricercatori tedeschi che raccontano che non possono più parlare dei cromosomi XX e XY perché vengono giudicati transfobici in Gran Bretagna ci sono dei professori girano con la scorta perché vengono sono i cosiddetti no platform e dicevo agli amici prima che la regina Elisabetta che non parla come tu sai mai ha dovuto intervenire dicendo faremo una legge per tutelare quei docenti che vengono cacciati dalle accademie accusati di transfobia allora e quell'articolo 4 rivela esattamente la coda di paglia rispetto a una realtà tra l'altro tra l'altro appunto quello che diceva Aynes per la sinistra la nuova disciplina avrà una funzione pedagogica però attenzione talvolta il pedagogista danneggi i propri allievi il coltello del pedagogista è sempre un'arma a doppio taglio ho citato Aynes io ripeto questo testo io veramente io non se devo dirvela tutta io non penso che questo testo possa essere salvato ci sono troppi problemi dentro questo testo non vorrei essere nel PD che immagino ecco tu dicevi sui social non se n'è parlato si discute ma non è sui social ma ho sentito la senatrice Valeria Fedeli che ha detto ma noi non siamo mai stati coinvolti a discutere questo testo questo è l'espressione di una lobby diciamolo chiaramente LGBTQ che spinge in tutto il mondo e se avessimo abbastanza tempo direi che questo momento è stato profeticamente visto da un grande filosofo che si chiamava Ivan Illich che è il padre dell'ecologismo contemporaneo il quale nel 1984 ha dato alle stampo un libro che si chiamava Gender e dove diceva che questo sarebbe stato il più grande cambiamento della storia umana cioè l'indifferenza tra i sessi che serviva a dire che la libertà è quella di cambiare sesso tutto il resto non conta non contano le libertà sociali contano i diritti civili e che questa sinistra dirittista che ha perso ogni orizzonte ecco con cui riempie questo orizzonte vuoto e diceva appunto sarà il più grande cambiamento della storia umana perché questo individuo neutro fungibile che consumerà quello che il mercato gli dirà di consumare costretto a una specie di precariato assoluto nella solitudine slegato da ogni relazione legame allora adesso può essere che Illich fosse un pazzo ma quello che stiamo vedendo è esattamente questa cosa allora io credo che per finire che di fronte a una rivoluzione antropologica come quella che ci viene proposta surrettiziamente da un DDL che dovrebbe servire a tutelare alcune minoranze e garantire loro un'esistenza degna e sicura ecco io credo che il partito democratico debba assumersi la responsabilità di quello che sta facendo e deve ripensare profondamente questo senza chiusure perché io sentire il segretario Letta tra l'altro questo DDL somiglia al segretario Letta alla storia del segretario Letta non mi pare quindi non si può finisco non può diventare il terreno di una battaglia fatta di miseria politica questa è una battaglia troppo importante grazie anche a Marina certamente il quadro è molto molto pesante quello che lei ci sta facendo e il clima culturale è quello che è ma noi vorremmo resistere vorremmo veramente essere un luogo dove invece il dialogo continua dove dove si vuole si vuole affrontare proprio anche il cuore della vicenda che è sono perfettamente convinta una questione antropologica perché dopo che il Papa ha detto chiaramente che tutti vogliamo che ci sia il rispetto sommo di qualsiasi persona qualsiasi sia l'orientamento sessuale che deve essere trattato secondo la dignità umana e secondo la regola della più fraterna carità dopo che è stato detto questo è chiaro che non ha senso fare muro contro muro se vogliamo penalizzare qualche aspetto che abbiamo visto essere drammatico e particolare nella nostra società va bene ma bisogna stare attento che dentro questo non si non si crea invece una bolla che potrebbe avere degli effetti negativi però io vorrei fare ancora un piccolo chiedere la fatica agli ascoltatori ai nostri ospiti di darci ancora uno spunto uno spunto conclusivo perché conclusivo che poi apra di nuovo di nuovo evidentemente al dibattito che sia un dibattito socialmente sentito allora secondo voi mi sembra di aver capito che è difficile uscirne ma non c'è neanche uno spiraglio il presidente Flick ha detto abbiamo ancora il bicameralismo usiamolo Marina tu cosa ne dici e poi Fabio e poi facciamo concludere però sarò molto realista il pallino in mano ai renziani come è stato in mano per il governo sono i nuovi craxi diciamo così i renzi i nuovi craxi è il lago della bilancia faranno i grandi mediatori non so esattamente perché naturalmente loro giocano la loro partita che siano dei santi e quindi dipende molto da quello che faranno loro secondo me perché ho poche speranze che il partito democratico riesca a fare questa specie di atto di grande responsabilità e di dire questa legge è sbagliata e quindi siamo in mano a Renzi e faraone nella fattispecie al senato e speriamo che vengano illuminati dallo spirito ma è solo una questione politica ma questa benedetta società civile può aiutare o non aiutare può dare esempi di capacità di dialogo oppure la dobbiamo consegnare al dibattito politico Fabio ma il tema è di società civile ma molto anche perché guardate noi addossiamo ai partiti e alla politica dei limiti che sono limiti intrinseci della società civile chi oggi ha il coraggio di dibattere su idee forti e significative di confrontarsi su idee oggi c'è l'idea che ciascuno debba farsi gli affari suoi senza un minimo di dibattito e questo è di coraggio anche di esprimere le proprie idee perché nel momento in cui tu esprimi le tue idee hai solo l'impressione che qualcuno sia lì pronto a distruggerti o a annientarti in qualche maniera quindi c'è un tema di società civile anche di società ecclesiale arrivo a dire anche nella chiesa si parla pochissimo di idee ormai ci si nasconde tutti dietro il citato e che Dio ce lo tenga e ce lo custodisca Papa Francesco per il resto è calma piatta e anche questo è un problema dal punto di vista della maturità poi del dibattito come uscirne poi io spero e credo che si possa trovare a livello parlamentare quella poi dopo che siano promotori i renziani o altri quella saggezza di dire sentite non tagliamo la faccia a nessuno non ci sono vincitori né vinti ma vince lo diceva all'inizio il professor Flick vince la costituzione cioè emaniamo una norma che ci permetta di dire nessuna discriminazione inseriamo questo discorso del sesso perché a me non piacciono neanche le riserve indiane e la tutela delle minoranze o i diritti sono per tutti o non sono diritti grazie presidente Flick lei la parola conclusiva io aggiungo una piccola nota di pessimismo che spero si superi io temo che l'opinione sociale che non è assolutamente pronta e preparata perché non ha voglia di esserlo perché gli elementi per averle li avrebbe per interessarsi e per approfondire un minimo questi problemi io temo che difficilmente si sporterà o da posizioni radicaleggianti pensi quello che è capitato nel campo della giustizia a proposito dell'ergastolo stativo pensi quello che sta capitando tutti i giorni cioè o prima o dopo la giustizia l'opinione politica pubblica dice ma facciano poi politici facciano quello che vogliono non mi interessa io stesso temo di essere trascinata questa linea di fronte alla così allo sconcerto che mi dà l'uso che viene fatto dei principi l'uso che viene fatto della costituzione parliamoci chiaramente quanti hanno il coraggio di dire che in questo momento la costituzione viene utilizzata come strumento per non dico giochi ma per manovre e acrobazie di carattere politico quanto lo è stata in questi anni e chi è che ha avuto la capacità di dire no le cose non vanno così nessuno a cominciare dai professori di diritto costituzionale o comunque dai costituzionalisti come me ecco quindi sono molto pessimista da questo punto di vista vedo poi che tutto sommato quando si arriva alla scelta finale al referendum il popolo italiano sembra tirar fuori saggezza ma in questo momento il popolo italiano è troppo provato dalla fame dalla tensione dalla pandemia per potersi distaccare dai problemi della quotidianità questo imporrebbe che un tema così delicato così divisivo e così importante venisse accantonato e non venisse inserito nell'ambito di quello che è il decalogo di una globalizzazione perversa nella quale stiamo vivendo ecco questa è la mia sensazione mi auguro che ce la faremo poi vedremo ecco spero solo che Papa Giovanni tiri avanti Papa Giovanni Papa Francesco l'absus tiri avanti fino a quando avrà in qualche modo consolidato ma pensate al tema dell'ambiente tutti si stracciano le vesti per l'ambiente tutti continuiamo a fare emissioni tossiche spregandocene altamente apre la televisione per vedere la pubblicità delle vetture basterebbe questo quindi non sono molto ottimista voglio esserlo e se necessario cercherò di fare tutto quello che posso nei limiti della mia povera iniziativa per continuare a sostenere quello che credo al popolo italiano bisognerebbe chiedere di pensare prima di dire e di dire quello che pensa mentre il coraggio non è soprattutto questo non è di tutti noi e non è della maggioranza sentite io non posso non posso ne voglio concludere voglio invece ribadire intanto l'intento che ci aveva mosso che era quello di aprire un dibattito appunto quello di cui sentiamo la mancanza in Parlamento e che vogliamo che entri nella società civile che le questioni sono giuridiche come abbiamo visto e sono effettivamente molto preoccupanti anche giuridiche ma soprattutto c'è un tema di fondo che è un tema antropologico e che per ricordare l'insegnamento papale fa anche parte questo dell'ecologia dell'umano se vogliamo porre la questione le questioni di cui stiamo dibattendo dell'identità dobbiamo non dimenticare che anche l'uomo ha una sua ecologia ha una sua naturalità e vediamo come questo come questo poi si sviluppa il che non toglie assolutamente che ci sia l'obbligo di evitare comportamenti assurdi cose che ci hanno veramente turbato la violenza contro le donne la violenza contro i disabili il disprezzo le hate speech cioè sono tutte tematiche che sono tutt'altro lontane dalla nostra preoccupazione mi permetti ancora una piccolissima cosa poi mi taccio per sempre e cioè stiamo vivendo un periodo nel quale stiamo glorificando è una triste necessità la sostituzione della connessione digitale a quello che è il contatto umano è necessario per evitare il contagio ma è il discorso poi ci siamo accorti e ci siamo illusi che questa nuova forma di connessione al posto del contatto funziona efficace costa meno e quindi stiamo avviandoci a un contesto nel quale stiamo dimenticando la centralità della dimensione umana perché è molto più facile connettersi via email o con qualche altra trappola dello stesso genere che non discutere anche per chi è ma noi ci impegniamo a far sì che è un tema di un altro incontro quello che il professore ha appena enunciato ma noi ci impegniamo affinché si possa veramente tornare in presenza e nel frattempo usiamo questo strumento ben conoscendone tutti i suoi limiti però mi sembra che nonostante i limiti dello strumento la discussione di oggi abbiamo mostrato pur nella grande problematicità del momento e dell'oggetto che ci si può veramente parlare da uomini e provare anche da uomini e donne anche da donne se permette io ormai sono scusate sono dell'altro secolo il linguaggio di gente non mi è ancora entrato anche se nella mia università ormai siamo abbastanza avanzati su questo tema ma appunto io penso che sia un tema che dobbiamo dobbiamo tenere presente e che con tutto il rispetto e l'accoglienza per chi è su posizioni diverse però ci debba essere una chiarezza che ci aiuti non solo a dialogare ma prima di tutto a riconoscere quello che noi siamo e l'altro come presenza positiva per la nostra vita io vi saluto vi ringrazio e ringrazio anche i nostri ascoltatori che ci hanno ci hanno seguito fin qui e do appuntamento ai prossimi incontri dove cercheremo ancora di approfondire temi e problemi che ci interessano e che ci muovono fin nel profondo grazie grazie presidente Flick grazie a Fabio Pizzul grazie a Marina Terragni grazie davvero e alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti